I terremotanti dell'Isola Dischia attendono il provvedimento di ulteriore proroga dello stato di emergenza che è in scadenza a fine febbraio. Intanto si sta promuovendo una raccolta di firme che è arrivata addirittura sul tavolo del Presidente De Luca. Per più non zabatta? È una raccolta di firme nata proprio dalla società civile, da liberi cittadini, da un libero pensiero, senza nessun scopo politico, non politicizzata nel senso buono della parola. Per cui ci stiamo raccogliendo queste firme per dare anche il sostegno a chi per noi sta seguendo queste circostanze, in particolar modo ai due commissari, alla ricostruzione e all'emergenza, Grimaldi e Schilardi. Per cui una cosa che quantunque potrebbe essere firmata anche da politici, persone rappresentanti del civico consenso, è un'iniziativa che parte dalla base, proprio dalle persone che hanno ritenuto questo tipo di iniziativa. La domanda che potrebbe essere ovviamente scontata, devono firmare solo i cittadini dei tre comuni interessati da Sisma oppure anche altri di altre realtà comunali? No, per come è stata imposta possono firmare tutti i cittadini italiani, quindi tutti che hanno la cittadinanza italiana. C'è una scadenza o continuerete fin quando ci sarà la possibilità di ottenere il provvedimento? Credo che inizio settimana prossima saranno portati ai tavoli di riferimento.